Salve a tutti! Prima di cominciare voglio ringraziare tutti coloro che hanno espresso il loro apprezzamento per questi video. Bene, oggi vi vorrei parlare di un argomento che ritengo sia, soprattutto di questi tempi, di grande attualità, considerando la massa di informazioni che quotidianamente ci giungono attraverso la televisione, attraverso i social, attraverso tutte quelle, diciamo così, agenzie di comunicazione che generalmente noi chiamiamo mass media. Bene, l'argomento è la chiacchiera. Martin Heidegger in Essere e Tempo, è la prima parte di Essere e Tempo, dedica un capitoletto alla chiacchiera, che in tedesco si dice Gherede, Das Gherede, nel quale spiega in maniera molto precisa, molto puntuale, la caratteristica del parlare che appunto da rede diventa un Gherede, cioè dal parlare fondato diventa una semplice chiacchiera priva appunto di fondamento. Per quanto riguarda Heidegger, per chi volesse approfondire la conoscenza di questo pensatore, oltre naturalmente alla lettura diretta delle sue opere, rimando alla buona introduzione di Gianni Vattimo sul filosofo tedesco e ad alcuni video che è possibile reperire su internet di Franco Volpi. Bene, che cos'è la chiacchiera per Heidegger? Detto in termini molto semplici, la chiacchiera è sostanzialmente una modalità della esistenza inautentica. Ecco, anche su questi termini autenticità e inautenticità non possiamo dilungarci troppo, altrimenti il discorso diventerebbe appunto complesso. Basti dire che la parola italiana autenticità traduce il termine tedesco Eigenheit. La parola Eigenheit contiene la parola Eigen che significa proprio, specifico, particolare, ciò che è appunto più proprio di quel determinato individuo. Per cui la modalità, l'esistenza autentica di contro, l'esistenza inautentica è quell'esistenza, diciamo così, che fa dell'individuo anche di originale, di specifico, di particolare, che lo distingue in qualche modo dalla massa di tutti coloro che la pensano allo stesso modo, che agiscono allo stesso modo e non approfondiscono le questioni di cui essi parlano, che appunto sono tutti quanti immersi nella modalità della chiacchiera. Ora Heidegger dice che questa modalità è una, diciamo così, una caratteristica che riguarda tutti gli esseri umani, che riguarda tutti noi quindi, quindi in un certo senso la chiacchiera è qualcosa da cui non possiamo liberarci, perché costituisce appunto quella comprensione media, come dice appunto Heidegger, nella quale si può, diciamo così, costruire una comunità, una comunità nella quale ci si intenda. Tuttavia questa comprensione media, nonostante che Heidegger non voglia dare una connotazione negativa alla chiacchiera, è caratterizzata da uno scadimento, da una chiusura, come dice il filosofo, cioè la chiacchiera, la comprensione media, il parlare medio impedisce appunto la comprensione reale dell'essere, impedisce la comprensione della realtà e quindi impedisce anche la comprensione di se stessi. Dunque la valutazione di Heidegger, nonostante che egli appunto ci tenga all'inizio del paragrafo in questione a sottolineare che, diciamo così, la sua indagine sulla chiacchiera non vuole esprimere un giudizio di valore negativo, è sostanzialmente negativa, proprio perché la chiacchiera costituisce uno scadimento, costituisce appunto una modalità inautentica, una modalità tale dell'esistenza che non ci permette di attingere la realtà, non ci permette di, per usare il linguaggio di Heidegger, di avere una relazione originaria all'ente di cui si parla. Quindi nella chiacchiera che cosa conta per Heidegger? Non conta tanto il fatto che si abbia una precisa comprensione dell'ente di cui si parla, non conta tanto il fatto che quello che io dico corrisponda in qualche modo alla realtà, o riveli meglio la realtà per come essa è, ma conta soltanto il fatto che si parli. Il chiacchierone, per così dire, e siamo tutti chiacchierone dal punto di vista di Heidegger, è colui il quale non è tanto interessato a scoprire se quello che dice è vero oppure è falso, corrisponde in qualche modo ad una realtà oppure sia soltanto una fantasia, ma è interessato a parlare, a chiacchierare, a sentirsi in qualche modo accomunato insieme agli altri attraverso il riportare ciò che ha sentito e dunque in questa, diciamo così, in questo riportare, riparlare quel che assolutamente non conta è appunto il rapporto originario all'ente di cui si parla, cioè quello che non conta è che quello che si dice corrisponda o non corrisponda alla realtà. L'altra caratteristica della chiacchiera appunto è il suo carattere anonimo, è il sì che parla nella chiacchiera, è il sì impersonale, cioè nella chiacchiera non parla l'individuo in quanto individuo che è interessato a scoprire la realtà, ad indagare la realtà e se stesso. Non è l'individuo in quanto si sforzi di usare la sua ragione, in quanto sia interessato appunto a che il suo discorso non sia un discorso privo di fondamento, ma sia un discorso fondato, ma nella chiacchiera ciò che conta è appunto, come dicevamo poco fa, il parlare per se stesso. Un'altra caratteristica della chiacchiera è il fatto che essa si fonda su se stessa, cioè non avendo una relazione originaria all'ente, cioè la chiacchiera non è fondata sulla realtà, alla chiacchiera non interessa ciò di cui essa parla, ciò che essa riporta. Il chiacchierone non è preoccupato del fatto che quello che dice corrisponda alla realtà, non si preoccupa del fatto che quanto dice può essere smentito da una ricerca più attenta, da un'indagine più rigorosa. Abbiamo visto in precedenza che la chiacchiera è qualcosa di superficiale, è un parlare superficiale, è un parlare privo di fondamento. Dunque su che cosa può fondarsi l'autorità della chiacchiera se essa non ha fondamento nella realtà, evidentemente è solo su se stessa. Heidegger lo dice molto bene con parole molto chiare. Il chiacchierone crede a ciò che dice perché lo ha sentito dire da qualcun altro. Poiché lo ha sentito in televisione questo è vero. Dunque la chiacchiera, essendo priva di fondamento nella realtà, non può che trovare in se stessa la propria credibilità, il proprio carattere autoritativo, dice Heidegger. Le cose stanno così perché lo si dice. Questa stessa superficialità, questa stessa infondatezza della chiacchiera non le sbarra il passo alla pubblicità, anzi la favorisce. Quanto più una chiacchiera è infondata, sembra dire Heidegger, tanto più essa si diffonde. Quanto più semplicistico è un ragionamento è un ragionamento, tanto più esso fa presa sulla moltitudine. Dunque l'infondatezza della chiacchiera, la mancanza di relazione all'ente, il fatto che essa non dica la verità o che dica una verità parziale o che sia superficiale nel suo parlare di ciò di cui parla non è una caratteristica tale da sbarrarle la strada alla pubblicità, ma anzi è una caratteristica tale che essa si diffonda il più possibile e assuma dunque quasi un carattere di verità che naturalmente non ha. Bene, adesso vi vorrei leggere alcuni brani tratti da questo paragrafetto, molto significativi, ho scelto quelli più semplici, ma che con grande precisione, con grande direi forza, capacità di penetrazione dicono molto bene qual è la caratteristica della chiacchiera, perché la chiacchiera fa presa presso la moltitudine e perché essa dunque costituisca una modalità di vita inautentica. Allora il primo brano che vi vorrei leggere ci mostra il, diciamo così, l'infondatezza della chiacchiera, il fatto che appunto la chiacchiera, come abbiamo detto più volte, non è legata all'ente, non ha un rapporto originario all'ente di cui essa parla, cioè la chiacchiera, è un sapere superficiale, attiene una comprensione media, la quale dunque più che aprire la comprensione dell'essere costituisce una chiusura alla comprensione stessa, una chiusura all'intendimento della realtà. Scrive Heidegger, più che comprendere l'ente di cui si parla, l'ascolto si orienta subito e solo sul parlato come tale. Questo è compreso, mentre il su cui è compreso solo all'incirca, superficialmente. Intendiamo la stessa cosa perché tutti insieme comprendiamo il dettato nella stessa medietà. Ecco qui Heidegger, diciamo così, parla dell'ascoltatore, si mette dal punto di vista dell'ascoltatore, il quale poi avrà il compito di riportare ciò che ha ascoltato, quindi per semplificare, diciamo che il chiacchierone che ascolta non si pone il problema di verificare se quanto sente dire corrisponde o meno la realtà, riveli o meno qualche cosa di sensato, ma ciò che lui interessa appunto è di ascoltare per poter poi riparlare, ridire in maniera critica e in maniera superficiale quello che ha ascoltato. Infatti vedete, alla chiacchiera non interessa la cosa stessa di cui essa parla. Non importa che quel che io dico sia vero, importa non la cosa stessa di cui io parlo, ma importa il fatto che io parli. Dunque vedete che cos'è che è compreso? Non la cosa stessa di cui si parla, ma il parlato come tale. Io comprendo il tuo discorso, sono d'accordo con te, ma non in quanto comprendo la cosa stessa di cui il tuo discorso parla, perché il tuo discorso essendo una chiacchiera non ha alcun interesse a che esso rispecchi in qualche modo, abbia una relazione all'ente di cui esso parla. Quindi quello che io comprendo, quello che io intendo è il tuo discorso, ma non ciò su cui il tuo discorso verte, perché la chiacchiera mi chiude alla comprensione dell'ente, essendo appunto un sapere superficiale, un sapere che non è interessato alla comprensione dell'ente, ma è interessato semplicemente al parlare come tale, ad attingere attraverso il parlare, diciamo così, una sorta di rassicurazione, una sorta di consolazione comunitaria, perché nel parlare, nel chiacchierare con gli altri io vengo, diciamo così, ad intendermi con gli altri, ma non sull'essere, sulla cosa stessa, bensì appunto soltanto sulla chiacchiera. E questo Hegel lo dice con parole abbastanza complicate nel brano che segue e che adesso leggeremo. L'ascoltare e il comprendere si sono preliminarmente agganciati al parlato come tale. Non è la comunicazione a partecipare il rapporto d'essere primario all'ente di cui si parla, ma è l'essere l'un con l'altro che si muove nel parlare l'un con l'altro e nel procurare il parlato. Ecco qui quello che dicevamo. Cioè non interessa tanto il rapporto che il discorso ha con ciò di cui esso parla, ma interessa quella sensazione, diciamo così, comunitaria, quella sensazione di stare l'un con l'altro, di essere, diciamo così, accomunati nel parlare con gli altri. In questo senso io direi che la chiacchiera è una funzione sociale, no? Nella misura in cui essa ci permette di stare insieme agli altri, no? Come quando diciamo, incontriamoci per fare due chiacchiere, questa funzione sociale è svolta nella totale, diciamo così, nella totale dimenticanza del fatto che ciò di cui io parlo dovrebbe essere la prima cosa da tenere in considerazione, cioè quello che io dico dovrebbe in qualche modo costituire un dire vero, un dire veritiero e non invece un dire che serve soltanto a darmi la rassicurante sensazione di condividere con gli altri delle idee, delle opinioni, dei pregiudizi, senza che io mi preoccupi appunto di indagare ulteriormente sul contenuto di verità di queste idee, di queste opinioni, di questo dictum che appunto è fatto per se stesso, è pronunciato per se stesso. E più oltre, Heidegger dice in maniera molto chiara, la parola già parlata come tale conquista cerchie più vaste e assume carattere autoritativo. Le cose stanno così perché lo si dice. In tale riecheggiare e riparlare, con cui la già iniziale mancanza di radicamento diventa completa assenza di un terreno, si costituisce la chiacchiera. Ecco quindi che la chiacchiera, vedete come Heidegger molto bene ribadisce il fatto che il carattere autoritativo della chiacchiera, la chiacchiera diciamo così si diffonde e viene creduta non perché essa abbia quella relazione all'ente, non perché essa dica la verità, non perché essa riveli un aspetto della realtà, ma soltanto perché essa ci consente in qualche modo di stare insieme, ci consente di sentirci accomunati nella stessa visione del mondo, negli stessi pregiudizi, nelle stesse rassicuranti opinioni. Non importa che queste opinioni siano appunto delle mezze verità o delle bugie o delle aperte scemenze, ma importa che appunto esse vengano credute e vengono credute perché appunto lo dicono tutti. Ecco, una volta è sottolineato il carattere anonimo della chiacchiera, no? Heidegger dice si crede a ciò che si sente, ecco vedete sempre il sì impersonale, siccome lo dicono tutti quella cosa deve essere vera, siccome l'ho sentito dire in televisione quella notizia deve essere una notizia che corrisponda alla realtà. Ecco dunque il carattere autoritativo non dipende dal fatto che io abbia indagato, che io mi sia accertato direttamente o attraverso un esame rigoroso se quella notizia sia vera oppure no, ma dipende dal fatto che semplicemente io l'ho sentita, l'ho condivisa, mi è piaciuta, l'ho ridetta in continuazione, mi sono sentito, diciamo così, rassicurato nella credenza dal fatto che tutti gli altri dicono la stessa cosa e così via. Dunque ricordiamoci questa frase molto importante, molto semplice anche, che Heidegger dice a riassumere il contenuto, come dire, inautentico della chiacchiera, cioè che appunto, vedete, le cose stanno così perché lo si dice. Questa è un po' la frase molto semplice, in modo di immediata comprensione che riassume in qualche modo il discorso di Heidegger sulla chiacchiera. Ora mi piace leggere un ultimo brano che si riferisce un po' a quelli che Heidegger chiama gli scribacchini, in certo senso noi tutti siamo degli scribacchini quando cominciamo a scrivere su Facebook, sui social, a riportare quello che abbiamo sentito dire, a condividere, eccetera, eccetera. La chiacchiera non resta limitata alla ripetizione verbale, ma si estende a quella scritta degli scribacchini, cui il riparlare non si fonda ormai più sul sentito dire. Essa si ciba di ciò che ha letto. La comprensione media del lettore non potrà mai discriminare tra quanto sia stato creato o ottenuto in maniera originale e quanto sia stato scopiazzato. Non solo, una comprensione media non vuole affatto, non sente il bisogno di simili distinzioni. Essa capisce tutto. Ecco, questo è un altro aspetto molto importante che vale la pena di sottolineare, un po' la presunzione del chiacchierone, no? Colui che crede di aver compreso, non perché ha indagato a fondo la questione, ma semplicemente perché ha sentito dire che le cose stanno così o perché ha letto in un libro che le cose stanno così, ritiene di aver compreso tutto. Quindi la comprensione media, la chiacchiera, non si pone il problema se quello che dice o quello che scrive sia effettivamente fondato oppure no. Dal momento che lo ha sentito dire, dal momento che lo ha letto in qualche libro, ritiene senz'altro di aver capito, ritiene senz'altro che quello che dice o quello che ripete, quello che riscrive, diciamo così, scopiazzando, no? Sia coincida con un sapere autentico, con un sapere dunque veritiero. L'infondatezza della chiacchiera non le sbarra la strada alla pubblicità, ma la favorisce. La chiacchiera è la possibilità di capire tutto senza preliminare appropriazione della cosa. Essa protegge infatti dal pericolo di fallire in tale appropriazione. La chiacchiera, che chiunque può captare, non soltanto dispensa dal compito di una genuina comprensione, ma crea una comprensibilità indifferente cui nulla più si sottrae. Ecco l'altro aspetto a cui accennavamo prima, e cioè il fatto che la chiacchiera sia infondata non le impedisce di diffondersi il più possibile. In effetti i discorsi fondati non sono molto popolari, sia perché sono discorsi complessi che richiedono dunque un impegno costante, uno sforzo di attenzione particolare, sia perché che sono discorsi che spesso non vengono incontro ai desideri più intimi delle persone. Dunque il fatto che una chiacchiera sia infondata non le impedisce il diffondersi il più possibile, ma anzi favorisce questa diffusione. E come dice qui Heidegger, la chiacchiera non si pone il problema dunque di comprendere ciò che dice. Abbiamo detto più volte che al chiacchierone non interessa il fatto che quello che dice riveli un aspetto della realtà, corrisponda alla realtà, e dunque il chiacchierone si premunisce in anticipo dalla possibilità di fallire. In effetti se a me non importa che quello che dico sia vero o falso, io non fallirò mai. Se quel che conta per me è il fatto di chiacchierare, il fatto di dire le scemenze che mi vengono in mente, che ho sentito dire, il fatto di scrivere ciò a cui presto do credito perché così mi piace, senza ulteriormente indagare se quello che dico, se quello che scrivo ha un fondamento nell'ente, è un fondamento nella realtà, evidentemente mi premonisco anche dalla possibilità di fallire. Fallisce soltanto colui che si pone come scopo la verità del discorso, perché nel momento in cui egli si accorgesse che il suo discorso non è vero, dovrebbe ammettere con se stesso di aver fallito. Ma chi non si preoccupa che il suo discorso sia vero o no, non fallisce mai, proprio perché il suo scopo non è la fondatezza del discorso, non è la verità di quello che egli dice, ma è appunto il fatto di dirlo, il fatto di riportarlo, il fatto, ripeto ancora una volta, di sentirsi parte di un greggio, in un certo senso, di una comunità. che la pensa allo stesso modo, che condivide le stesse opinioni, le stesse idee, ma che non si pone il problema di cercare il fondamento di queste opinioni, di questi discorsi nella realtà. Bene, con ciò direi di concludere questa chiacchierata e vi do appuntamento al prossimo video.